ragazzi bentornati nel mio canale di cucina e campagna sono silvia oggi andremo a fare un video molto veloce per farvi vedere come vi avevo detto nel video scorso dove ho messo a dimora i lamponi e le fragole come fare una talea molto semplice prendo un rametto da una qualsiasi pianta in questo caso è il lampone e vado a tagliarlo poi con l'aiuto di una forbice o con un taglierino tipo questo in questo caso mi aiuto con una forbice vado a fare un taglietto di circa 5 centimetri a metà fatto questo lo posiziono 10 centimetri quindi che ricopre questa parte più altri cinque centimetri nel terreno nell'orto nel vaso dove preferite è un modo molto veloce che da parecchi frutti e potete utilizzarlo sia per i lamponi per le rose insomma per tutte quelle piante che amano la talea ragazzi il video è terminato avete visto è molto semplice più è più facile farlo che a dirlo seguitemi sempre rimanete sempre aggiornati ciao e grazie grazie a tutti Grazie a tutti.